simpatico siparietto con marcello masi tra lui e andrea di rogu alla vita in diretta sia senza vergogna queste sarebbero state le parole che andrea avrebbe pronunciato e marcello sarebbe uscito dallo studio un finale piuttosto movimentato nel pomeriggio di ieri 28 luglio 2020 nel programma diremo tornati in studio per i saluti dopo l'ultima pausa pubblicitaria la conduttrice andrea si sarebbe presentata con il cellulare che ci fai con il cellulare avrebbe chiesto marcello masi andrea avrebbe risposto ironica sto mettendo like al tuo posto vedo che ti scambi mi piace con tutte anche quella ferola se senza vergogna e alla simpaticissima scenadella di gelosia marcello masi avrebbe reagito e avrebbe lasciato lo studio io me ne vado così avrebbe detto divertito in maniera chiaramente ironica così partono i relativi titoli di coda e la puntata di la vita in diretta di ieri termina qua vi ringrazio vi ringrazio per l'ascolto per la visione di questo video di oggi questo è quello che è accaduto ieri 28 luglio 2020 proprio alla vita in diretta ciao iscrivetevi al canale al prossimo video e buona giornata a voi